Allora, circa un mese fa, Ila vieni qua, ci ho postato nelle mie stories. E io sono meglio di Maria De Filippi perché vi comunico che si è sposata con uno di voi che le ha scritto. Cioè, quindi ragazzi, funziona come cupido. Allora, come mi hai suggerito tu, farò il tiro dalla distanza. Distanza molto difficile, ma ce la fai segna! Perfetto, grazie. Ciao Marco, come mi hai suggerito farò il tiro a cucchiaio, come hai detto tu. Allora, ce la vedremo. Beh, fai il perfetto! Alessandro, come mi hai suggerito, farò il tiro leggenda. Tanta, tanta, c'era la musica, quella che mi ha detto. Questa è Sparta! Scherzavo. Ciao Antonio, ho scelto, farlo di mano, come mi hai suggerito tu. Devo tirare un far volo con la mano, la mano, va beh. Raga, eccomi finalmente, ve lo giuro. Ho finito ora di scattare, sono distrutta. Comunque, domani esce il video intervista con mia nonna, perché ha vinto il video con lei. Cino, che hai tirato fuori, ah? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.